Siamo con il sessantesimo posto in classifica generale, primi tra gli equipaggi italiani e primi tra le auto a ponti rigidi, i fratelli aquilani Tito e Silvio Totani tagliano il traguardo di Dakar 2022, il rally nella penisola arabica di autovetture, motociclette, autocarri, quad e side by side con arrivo in Senegal. 8.000 chilometri, 12 tappe di fango, dune, passaggi distrutti dai camion, guadi e impantanamenti in cui l'esperienza e l'abilità dei fratelli totani hanno consentito di superare gli ostacoli, nonostante le limitate possibilità offerte dal regolamento. Per i due aquilani la cui impresa è stata sostenuta dall'assessorato allo sport della regione Abruzzo, un ritorno in grande stile alla celebre gara dopo dieci anni, un risultato, sottolineano, dovuto all'enorme sostegno di tanti amici dell'equipaggio, dagli abruzzesi e ai fan di tutto il mondo, ma soprattutto al team di motor tecnica con i suoi infaticabili meccanici. Il lavoro dello staff tecnico è stato incessante dagli iniziali adeguamenti richiesti dagli ispettori prima della partenza ad aggiustamenti nell'utilizzo di pneumatici con compound più morbido che ha permesso una grande rimonta dell'equipaggio abruzzese sulle dune della regione di Riyadh. I meccanici non hanno mai allentato la tensione. L'ultima giornata della celebre gara automobilistica si è chiusa con una tappa veloce e aggressiva in cui l'equipaggio abruzzese ha fatto segnare un ottimo 59esimo posto. Quest'anno la categoria era superiore a quella dell'ultima volta. Con dieci tappe concluse su dodici, la Nissan Patrol dei fratelli Totani si è comportata egregiamente. Le due tappe aggirate hanno dimostrato un'enorme maturità strategica da parte di Silvio e Tito nell'avere sempre come obiettivo il taglio del traguardo finale l'ultimo giorno a Jedda, senza rischiare troppo in situazioni estremamente pericolose. Dunque obiettivo pienamente raggiunto per i fratelli Totani che hanno segnato il sessantesimo posto in classifica generale di nulla dietro a mostri sacri come Stefana Peterhansel e Nani Roma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.